Noi non possiamo fare altro che registrare il silenzio, l'area che si respira oggi in questa zona. Pochissime persone che transitano in questo, che è un complesso residenziale, dunque anche il Via Vai non è all'ordine del giorno. È il canto degli uccellini a spezzare il profondo silenzio che avvolge l'abitato di Servola nel complesso di Via dei Vigneti. Qui al civico 22-2 nel giorno di Pasqua è maturato un delitto, costato la vita a un uomo di 73 anni, Fulvio Visintin, accoltellato a morte dalla moglie 69enne, Loredana Crasso. Il tutto è avvenuto domenica dopo aver passato il pranzo di Pasqua da alcuni parenti. A rientro a casa la coppia ha animato una furibonda discussione, pare per futili motivi. Gli strascichi della lite sono sfociati poi nell'estremo gesto da parte della donna, carica d'odio per i toni pesanti della discussione che con un coltello da cucina ha ferito il marito. Da lì a poco però, resasi conto dell'accaduto, è scattata la richiesta di pronto intervento da parte della donna. Fulvio però perdeva troppo sangue e ogni tentativo di salvargli la vita da parte degli operatori è stato vano. In un primo momento la signora Crasso ha fornito una spiegazione di facciata riguardo gli eventi, salvo poi cedere di fronte all'insistenza degli inquirenti che in fase di interrogatorio sono riusciti a farle confessare l'omicidio. Dalle fonti raccolte sembrerebbe che la coppia già da tempo non andasse d'accordo e che erano numerose le liti domestiche. Restano da capire poi altri dettagli. Dalla ricostruzione della donna, l'arma del delitto era inizialmente impugnata dall'uomo, proprio mentre i due litigavano. L'ordana Crasso, secondo la propria versione, avrebbe agito di impulso, prendendo l'arma e affondandola sull'uomo esclusivamente per difendersi. Tutti questi, ma anche altri aspetti, sono all'attenzione del lavoro degli investigatori. Grazie. Grazie.